Hanno tagliato la recinzione di casa e alla sua auto hanno letteralmente staccato cofano, fari, sensori, radar e persino le spazzole del tergicristallo. È solo l'ultimo in ordine di tempo il colpo messo a segno dalla banda dei pezzi di ricambio lungo via Caltana di Campodarsego ai danni di un imprenditore che così si è sfogato sui social. Questi ladri non hanno timore né di strade di forte passaggio né di sistemi di allarme. Cosa dobbiamo fare per proteggerci? Altri due colpi sono stati messi a segno nelle ultime ore in altri due comuni dell'Alta Padovana. A Trebasele che hanno tolto e rubato il catalizzatore a un veicolo lasciato in un parcheggio pubblico, a 90 Padovana la vittima è un rappresentante. Alla sua auto sono stati asportati cruscotto, fanali, specchietti retrovisori.